buongiorno a tutti oggi parleremo delle ultime novità della settimana per personale docente personale alta prima domanda i docenti precari con contratto a tempo determinato possono fruire del bonus 500 euro della carta del docente ebbene sì dal 4 dicembre 2023 il 500 euro del bonus docente per il personale con contratto di cat da full time o part time fino al 31 agosto 2024 sono stati accreditati nella piattaforma della carta del docente la misura prevista dal decreto salvo infrazioni prevede l'attribuzione della somma di 500 euro per l'anno scolastico 2023 2024 anche ai docenti precari ma con contratto annuale per contratto annuale si intende contratto fino al 31 agosto 2024 e solo per l'annata per adesso 2023 2024 quindi è già possibile generare i buoni creare il buono e spenderlo in questa annata e ci sarà tempo fino alla fine dell'anno scolastico i precari invece con contratto al 30 giugno per ricevere tale bonus dovranno ricorrere al giudice del lavoro competente tali ricorsi sono tutti vincenti per adesso seconda domanda si parla tanto di certificazione internazionale dell'alfabetizzazione digitale per il prossimo aggiornamento delle gradatori di istituto della terza fascia ata è utile acquisire questo titolo a cosa servirà possederlo allora la novità della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale riguarderà soltanto il prossimo inserimento nelle gradatori di istituto della terza fascia del personale ata tale novità non riguarderà nel personale ata inserito in prima faccia tanto per intenderci anche nelle gradatorie 24 mesi né coloro che essendo il ruolo come ata chiedono la mobilità anche per il cambio di profilo dunque per questi non servirà servirà e ripetiamo solamente a coloro che intendono acquisire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per l'inserimento nelle gradatorie di istituto di terza fascia ata che ricordiamo si andrà ad aggiornare nella prossima primavera terza e ultima domanda quando è previsto il pagamento del cedolino di dicembre con tredicesima e anticipo di indennità di vacanza contrattuale per quanto previsto dall allegato 1 del decreto legge 350 2001 l'automazione del pagamento della tredicesima mensilità insieme allo stipendio e per quest'anno anche all'anticipo di indennità di vacanza contrattuale arriverà nelle nostre tasche il 14 dicembre 2023 per le maestre dell'infanzia delle elementari il 15 dicembre per tutti i dipendenti statali amministrati della direzione provinciale del tesoro e con ruoli di spesa fissa dunque anche gli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado e infine il 16 dicembre 2023 verranno pagati gli insegnanti supplenti temporanei e tutti gli altri dipendenti pubblici speriamo che le risposte date siano utili ai nostri telespettatori continuate a seguirci nei nostri canali youtube nei canali facebook con le nostre dirette perché tratteremo da qui fino alle festività di natale tanti temi che possono interessarvi arrivederci alla prossima ciao 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 ciao